Allarme rosso per il Teatro Maruccino, nel bel mezzo delle celebrazioni del bicentenario. L'allarme è derivato dal fatto che non c'è certezza sui contributi regionali. Non sono arrivati i 200.000 promessi direttamente al Presidente D'Alfonso lo scorso mese di febbraio e non c'è traccia nemmeno del contributo ordinario di 300.000 euro del 2017. Infine, e della cosa più preoccupante, non si sa nulla del contributo per il 2018. Mancano conferme ufficiali, ma è filtrata la notizia che dal Teatro sarebbe partita una ricerca esplicita agli uffici regionali per avere certezza sui fondi per poter affrontare poi le spese previste per il finale dei festeggiamenti del bicentenario. Ci sono contratti da firmare per la stagione lirica e per gli altri eventi. E senza assicurazioni, a questo punto formali, legati ad atti, non a promesse, rischia di saltare tutto. Brutta situazione che è all'esame anche della politica locale. Il consigliere regionale Febbo si farà sentire in regione, ma anche il Presidente del Teatro, Cristiano Sicori, avvocato Cristiano Sicori, a questo punto vuole assoluta chiarezza, altrimenti è pronto a lasciare la poltrona e far finire tutto quello che c'è in corso al Teatro Maruccino. Una eventualità davvero che va scongiurata a tutti i costi.